La pubblica amministrazione italiana paga le fatture con estremo ritardo. Questione nota da tempo alla quale l'Unione Europea ha provato a dare una scossa con una procedura di infrazione aperta nel 2014. Da allora le cose sembrano migliorate, ma la strada da fare è ancora moltissima per arrivare ad avere pagamenti a 30 giorni, come prescrive la legge. Tra le amministrazioni finanziarie, quella che paga più tardi è l'Inps, che impiega 29 giorni più del dovuto. Seguono Sogei, Inail e, a sorpresa, Equitalia, che dimostra dunque di non essere così rigida come sembra, almeno quando si tratta di pagare e non di riscuotere. Il miglior pagatore è invece l'Agenzia delle Entrate, con 8 giorni di anticipo. Capitolo Ministeri, male interno, giustizia e difesa, con circa 50 giorni di ritardo. Bene, il Ministero dell'Ambiente, che paga una settimana prima della scadenza. Sanità, la situazione più drammatica è quella delle asle romane, che ritardano i pagamenti fino a 270 giorni. Al contrario di quelle della Valpadana, Valtellina, Altolario e Valcamonica, 44 giorni di anticipo. Infine i comuni, è qui che si tocca il fondo. Scicli, Ragusa, paga 628 giorni dopo. Poggio Nativo, Rieti, 478. Guardando questi numeri, sembra un miracolo quello che succede ad Aiello del Friuli, Udine e ancora di più a Luna Matrona, Medio Campidano. Pagano rispettivamente 29 e 30 giorni prima della scadenza. Praticamente il giorno stesso dell'emissione della fattura.